Ho acquistato il videocorso dello chef Andrea Di Giglio e devo dire che è strutturato con una serie di video dove spiega in modo semplice cose molto professionali, come ad esempio la gestione del lievito madre, dove prima non riuscivo ad avere un risultato soddisfacente, mentre ora vi mostro quello che sono riuscita a fare seguendo il suo videocorso. Questo è il pane che ho cotto stamattina e devo dire che è anche molto buono. Inoltre l'ho acquistato anche per mio figlio che sta frequentando l'alberghiero e quindi è molto utile anche a lui specialmente per la parte che riguarda la pasticceria professionale. Devo dire che ha un prezzo molto equo per tutte le argomentazioni che contiene e sono veramente tante, quindi lo consiglio vivamente.